Il numero 9 Jess, il numero 11 Patelainen e sono i due attaccanti della squadra. Il colpo di testa e la palla in rete. Assegnato a sorpresa l'Aberdyn con Patelainen. Aberdyn in vantaggio quando sono passati quasi 9 minuti del primo tempo e rivediamo l'episodio. Calcio di punizione. La difesa del Torino un po' ferma, anche probabilmente ci si aspettava lo stacco da parte di Annoni. Annoni è stato superato dal pallone, effettivamente un po' troppo alto per lui. Ed è stato molto bravo lo specialista Patelainen a realizzare questa rete.